Buongiorno, mi presento, sono Claudio Benchini, responsabile del magazzino di Cambio e Ricambi. Cambio e Ricambi è il magazzino di veicoli e ricambi. Offriamo la disponibilità di quasi 10.000 articoli di tutte le marche con basso assortimento di carrosserie per veicoli industriali, con un servizio al cliente di almeno due consegne giornalieri. Visitate il nostro site e-commerce dove potete trovare disponibilità a prodotti e le promozioni del momento. Oggi vi presento alcuni dei miei collaboratori. Qui abbiamo Stefano e Massimo, si occupano delle ricezioni di ordini telefonici e tutti gli ordini che arrivano sul nostro sito e-commerce. Piero ed Elia hanno il controllo dei codieri e di tutte le relative spedizioni. Grazie. 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 Grazie.